Allora, Vigilia di Pasqua! Si va a lavorare, l'unico strappo sulla regola è che ci andiamo a tetto aperto perché il sole ha la sua importanza. Io faccio gli auguri a tutti, spero vivamente che si possa passare una buona Pasqua. La voglia di starci a casa in una giornata e un weekend come questo è pari a zero, ma vedremo. Tanti auguri a tutti quelli che come me devono andare a lavorare, ho l'unico privilegio di poterlo fare divertendomi un attimo. Auguri!